Un'infermiera che si ammala di tubercolosi e 49 pazienti richiamati dalla TS per effettuare visite mediche ed escludere il contagio. Sta capitando in questi giorni a Cremona dove è stata avviata un'indagine epidemiologica su persone che erano ricoverate nel reparto di medicina dell'ospedale maggiore dove la donna affetta da TBC prestava servizio. Il caso è stato portato all'attenzione della direzione sanitaria della SST a febbraio non appena l'infermiera, assunta da circa due mesi, ha avuto certezza di aver contratto il morbo. L'ospedale ha quindi avviato tutte le procedure previste in casi simili, informando l'azienda per la tutela della salute che dopo un lasso di tempo congruo rispetto al periodo di latenza della malattia ha avviato proprio in queste settimane l'indagine clinica, sottoponendo all'esame Mantù, più comunemente conosciuto come tubercolina, 49 ex pazienti risultati presenti in reparto durante i turni dell'infermiera malata e quindi entrati in contatto ravvicinato con lei. La SST come in tutti i casi si è mossa con molta sollecitudine. Quando noi abbiamo una segnalazione attiviamo al nostro interno un sistema di sorveglianza e di vigilanza e insieme all'ATS che dall'altra parte ci dà una mano sull'esterno monitoriamo tutti i casi che possono essere stati contagiati. Vorrei tranquillizzare che la tubercolosi nel caso specifico non è una malattia infettiva, molto infettiva, molto contagiosa, è una malattia che presuppone uno stretto contatto con il paziente e quindi da questo punto di vista noi facciamo le indagini con molta calma perché è necessario che passi un tempo notevole prima che la Mantù si positivizzi. Non è detto che la positività della Mantù sia segno che il paziente sia stato contagiato da questo caso. Già 11 le persone visitate, i primi risultati sono confortanti. Finora abbiamo fatto 11 Mantù controlli e sono risultati negativi. Sono stati contattati anche altri ATS perché qualche contatto non era residente nella nostra, nell'ATS Valpadana. Pertanto sono stati avvisati i colleghi delle ATS limitrofe. La TBC non è una malattia debellata ma rispetto al passato che aveva indici di mortalità elevatissimi oggi è praticamente scomparsa. Un risultato che si deve in gran parte alla prevenzione e al livello di cure che nel corso del tempo si sono affinate. La tubercolosi è una vecchia malattia che è ancora presente nella nostra società in un modo ineluttabile. La tubercolosi è una malattia assolutamente curabile e trattabile. Ci sono delle disposizioni legislative che curano come fare le indagini epidemiologiche e come fare la prevenzione e la profilassi di questa malattia. Sono scattati tutti i procedimenti e tutti i meccanismi per tenere sotto controllo la malattia. Non c'è nessuna problematica di tipo infettivologico o epidemiologico per quanto riguarda il caso.